c'hai una marea di fan club qui davanti e adesso ti lascio il microfono adesso andiamo su qualcosa di più forte questa è autobiografica per quel mio amico là dedicato a giuseppe pantalone e c'è anche la dedica che ormai latita da anni bene allora quindi io e quelli che possiamo partire allora quindi di Tommy Riccio nulla di tante Carlo Dino e Zonda Dino 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 che la sera è cominciata a strada lunga c'è una paura che non sai se può far niente una valigia fatta in fredda un pensiero, un amore che non può stanzi ma a te ecco occhio del creatore che non capiva una ragione che ha partito solo tu ti stregnissi forte forte e poi non danno mi sto chiuso nulla di tante non vede più niente non danno vede nascosto da gente l'ultima mica diventi importante tu fai un regalo ti aspetta papà grazie nulla di tante la voglia in domenica non voglio fare un po' di so' inocente te metto la casa tutti su la mente prima del Natale e tu è Saturnale basta una bussa di porte per te fai zompendo lì e te non te fai chiudormi gente difficile ogni moda che ha trovato solo l'ore pace d'aiutarlo a morire e se fosse ancora ieri che l'umene che a mattina ti scetavo col caffè e risate che creatura che pazziavano con te nulla di tante non te ne vede nulla di tante ma scusa la gente l'ultima mica diventi importante tu fai un regalo ti aspetta papà nulla di tante la voglia in domenica non voglio fare un po' di so' inocente te metto una casa per di so' la mente prima del Natale prima del Natale e volesse tornare bravo bravo bravissimo bravissimo grazie non voglio fare un po' di so' inocente nemmeno se piangere nemmeno se piangere e potesse amore nulla di tante la voglia in domenica non voglio fare un po' di so' inocente telefona a casa fra di so' inocente rimane il Natale e volesse tornare grazie a tutti grazie a tutti speriamo sia l'ultima grazie allora la giuria ha votato sta votando sta ottimando vino nulla di tante Michele accenna un po' di sei accenna un po' di sei Michele allora qui abbiamo due finalisti veramente importanti e qui adesso la giuria sta contando i vostri voti sta contando uno di voi due andrà avanti e quelli che sono rimasti hanno avuto la vita facile perché sono direttamente sul podio già classificati già classificati direi di filerla qua chi vince vi dividete la vincita è apposta allora Bermaduro ha già preso un cachet milionario quindi ha parlato già con i miei produttori hanno già pagato al produttore quindi adesso comunque vada un milione è successo come si dice il buon Peppe Peppe e Peppe Sinatra com'è è pronto nell'eventualità di è voglia è pronto è pronto anche lui sono pronti tutti allora adesso è importante io vorrei vorrei vedere sono curioso anch'io di sapere chi andrà avanti c'è tensione la partina dei fileristi siete sul podio eh Mino 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 la giuria facciamo un bel applauso alla giuria che sta contribuendo a questa serata sono pochi stanno seduti hanno bevuto anche un po' d'acqua noi le abbiamo lasciate a seco quindi stanno bene adesso avrà arrivato il momento importante il momento di dobbiamo proclamare i vincitori il vincitore in questo caso e poi dopo abbiamo già il podio abbiamo i primi tre intanto precede il conteggio nemmeno male che ne abbiamo scelti solo sette di giurati perché se ne ne ho di più qui benissimo 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 allora Leonardo lo ce la abbiamo ce la abbiamo allora anche qui anche questa volta per una manciata di voti per una manciata di voti va avanti a questa vinta edizione del Caravozio Night Festival il nostro Mino è stata una bella sfida e abbiamo di Mino Mino vieni qua come vai come vai e di questo porta che reclama e che è bello dobbiamo andare solo avanti abbiamo allora abbiamo già il podio in pratica perché ci sono gli ultimi due concorrenti da sfidare sono matematicamente sul podio tutti e tre i concorrenti e li facciamo alzare in piedi perché qui c'è da sfidare e Mino Vessola dovrà scegliere il prossimo sfidante sei già pronta e già le idee chiare? e dove c'è il ragazzo la coppia dove c'è il ragazzo facciamo la coppia la coppia allora il duetto Emma e Vito vediamo se ce la fanno in due e qui c'è il ragazzo con tanta umiltà il nostro Mino Vessola facciamo facciamo un bel applauso a questo duetto che si appresta a questa finale vi lascio subito vi ricordate la canzone chiara allora loro ci cantano una canzone di Bertoli e Mannoia ancora Mannoia e Vito non vediamo grazie